Non mi è mai capitato di interrompere una partita al 75esimo, non mi è mai capitato. Nella vita si vince perché si perde, nella vita si perde perché ogni tanto si vince. Avevamo vinto l'ultima Supercoppa contro di loro e oggi l'abbiamo perso. Avevano vinto l'ultimo campionato e non si sa come l'hanno perso. Ma c'è una cosa, c'è una differenza, c'è una differenza netta tra perdere e non giocare. C'è una grossa differenza. Perché oggi era scritto che perdessimo, era scritto ragazzi. Era scritto che perdessimo. L'ho detto all'inizio della live reaction che domani uscirà, che oggi avremmo palesemente perso questa partita. Ma non serve rifarsi alla live reaction che uscirà domani. Serve rifarsi alla partita con la Salernitana del 4 gennaio. La partita maledizione, come l'ho chiamata io, la partita maledizione. Perché è stata quella partita che da lì in poi ha inanellato quello che è successo qua a Roma, quello che è successo col Torino, quello che è successo a Lecce. E oggi hai avuto il coronamento di quello che stai passando. Con la Salernitana vi dissi ragazzi. Vi dissi ragazzi. Questa stasera, dopo che mi avete fatto spendere 200 euro per questa, soldi che sono andati a voi. I soldi di questa maglia sono soldi che sono andati a voi. In cui non ha... Guardate, guardate cosa c'è scritto. Guardate cosa c'è scritto su questa maglia. e voi non siete stati capaci di muovere un dito. Di muovere un dito per difendere. Non vi dico di far diventare quel 19-20 che sarebbe stato l'apoteosi assoluta, però di farla onorare. Voi non ci siete riusciti. Non ci siete riusciti. A me la Supercoppa non frega niente. Non è una scusa. La live reaction lo dico prima della partita. A me, per me la Supercoppa è sempre stata un porta ombrella, è stato un trofeo totalmente inutile quando l'abbiamo vinto e quando l'abbiamo perso. A me scoccia averla persa così. A me scoccia sapere che è una partita da tre mesi come questa tre mesi di più sei mesi perché tu da quando hai inito il campionato sai che avresti giocato la Supercoppa e tu arrivi qui senza mezza idea. Tu arrivi a giocare questa partita e fai un tiro in porta nel primo tempo. Fai un tiro in porta nel primo tempo. Tiro in porta dove hai calciato palesemente addosso al portiere. Nel secondo tempo fai tre tiri tutti addosso al portiere tirando da casa vostra. Poi il Milan esce col Torino dalla Coppa Italia. vedi 34 tiri 8 in porta 0 gol. Io vi dicevo con 34 tiri non abbiamo fatto gol al Torino. Come pensate di vincere la Supercoppa? Eh no però 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 di settima ci si riempie le palle che poi strabordano e succedono queste cose. noi ogni anno ce le togliamo le soddisfazioni perché le soddisfazioni ce le togliamo. L'anno scorso un derby che hanno dominato e l'abbiamo vinto. E abbiamo vinto un campionato. A settembre la vendetta la vendetta la vendetta la vendetta l'hanno riperso. Quindi le soddisfazioni ce le siamo tolte. Perché non si può dire che non ce le siamo tolte ma cazzo stasera scendimi in campo. ragazzi ventesimo minuto del primo tempo stai sotto 2 a 0 e dico questa partita finirà 3 a 0. Fini cioè ragazzi è incredibile è incredibile come io negli ultimi quattro negli ultimi quattro partiti ragazzi abbia predetto con almeno mezz'ora di anticipo ogni risultato finale. È stato incredibile ragazzi. Giocate uguale giocate senza idee riassunto della favola giocate di merda. Questo questo lo faccio vedere da lontano perché giustamente ci sono i miei dati sopra. Questo ve l'ho già mostrato l'anno scorso. Si va a Roma anzi io sono già a Roma quindi devo prendere la macchina e guidare 10 minuti all'Olimpico ma te di prossimo dopo 250 euro di questa dopo 200 euro di questa maglia di merda 50 dei pantaloncini e 43 del biglietto e ringrazio il fatto che questi soldi siano andati alla Lazio e non al Milan perché quando metti la sferta tu paghi chi ti ospita non paghi la tua società quindi grazie lo tiro che ti sei preso i miei 43 euro e non gli ha presi il fondo che gestisce il Milan io martedì che devo andare allo stadio cosa devo pensare? Cosa devo pensare dopo che una squadra l'Inter che ha fatto più del Milan nel 2023 però ha sofferto contro il Parma di Serie B sabato contro il Verona non ha giocato una grandissima partita potevano essere avevano diritto di essere sotto di morale anche loro perché ne avevano un diritto e invece no e invece tu arrivi stasera fai le stesse identiche cose ora intanto partiamo dal portiere la capite la differenza tra avere un portiere e non avere un portiere c'è che poi cazzo no Tata Rusano è tre anni che al Milan è tre anni ora dici anche Andanovic ha fatto schifo siamo d'accordo Andanovic ci ha fatto dieci anni nell'Inter è stato cinque sei volte il miglior portiere del campionato prima faceva la lotta con Buffon poi l'ha fatta con Cesni poi l'ultimo l'ha fatta con Donnarumma la lotta a chi era più bravo e poi l'età l'ha zoppato ma questo ragazzi è tre anni che al Milan c'è due anni fa ragazzi si pareggiò una partita con la Roma per colpa sua l'anno scorso si perse quattro a tre a Firenze per colpa sua tra un po' l'anno scorso non perdiamo col Verona per colpa sua hai avuto sei sessioni di mercato hai preso il mirante svincolato e un mezzo coionazzo che viene dal Sud America che fino all'anno scorso a Rava ai campi di Semolino perché Vázquez fino a dieci giorni fa a Rava ai campi di Semolino in Sud America e tu cosa fai? Non rimpiacci un portiere primo perché il secondo gol sarà stato un tiro della Madonna ma un sinistro che ti tira di destra e tu che ti siedi tu non ti siedi tu non ti siedi tu non ti siedi tu giochi nel Milan non ti siedi non esiste che tu ti segga non esiste come cazzo è il congiuntivo di sedersi che ti segga non esiste tu ti butti e se non ti butti non giochi non giochi per non parlare della difesa ragazzi Calabria da quella parte fa quella da tutte le parti gli ha fatto il fenomeno contro Gallo del Lecce se gli ha giocato bene Gallo contro tu puoi prendere qualsiasi giocatore di Serie A che faccia all'esterno sinistro terzino quello che è e gli appoggia il coglione in testa poi il secondo e il terzo io posso capire il primo gol il secondo e il terzo punizioni da centrocampo palla raso terra e hai preso gol palla raso terra punizioni da centrocampo cioè ma questa ragazza è una cosa che al campetto non si fa cioè se io vado al campetto a giocare e sto fermo su una punizione da centrocampo mi dicono va in porta per il resto della partita perché quello ti dicono mi volete dire che tutti i tre gol che abbiamo preso erano azioni dove non si poteva fare niente sbagliato mi posso concedere la prima ma la tede non me la concedo e stasera mi vedete meno incazzato perché non perché non la voglia dare vinta a qualcuno o meno me ne frega niente perché ormai più ti incazzi e peggio è a questo punto stiamo arrivando perché stiamo arrivando a livello di rassegnazione e io qua qua vi invito a pescare il video con la salernitana dove dissi che la salernitana era solo fumo negli occhi e qua vi inviterò nel futuro a ripescare questo video dove vi dico che fin che non si giocano gli ottavi di torno di Champions League fino a quella partita lì minimo minimo noi da questa situazione non ci usciremo mai bene sapete cosa diceva divertente che la partita non è ancora finita quindi magari nel frattempo ne abbiamo presi 3, 4, 5 o magari se ne è fatto anche uno io non lo saprò mai ciao